Mi chiamo Margherita Maccafani Missoni e sono qui oggi alla presentazione della nuova mini Countryman Picnic. Ho personalizzato una mini, l'ho riempita con tutti i miei oggetti preferiti in cui vorrei partire per un weekend, una sorpresa. Per me il weekend è in città, non è una mini da weekend, è una mini da tutti i giorni con cui partirei per un viaggio da sogno, quindi il cestino da picnic perché non si sa, non si fermerà. Sono i colori che mi sono perché quella è la mia vita, è quello a cui sono abituata, però ho portato, ho sviluppo piatti, bicchieri, vino, libri e film. Io sogno che Milano faccia veramente un buon uso di questa expo perché è un'occasione importantissima e spero che ce la giocheremo bene, io credo molto in Milano e io sogno che l'Expo invece ci dia una mano in quel senso e che Milano deve saper utilizzare bene.